No, non direi che fanno avvicinare un po'. Buongiorno, buongiorno. Ciao Juan. Ciao Juan. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Eccoci qua, Juan. Di qua, Juan. Sei contento di questa nuova avventura Juan? Per me è un'avventura nuova, quindi sono molto contento. Come va questa scelta qua? Grazie. Grazie, ciao, ciao. Grazie. Non mi ha scattato il più flessere.